Io resto a casa. I primi effetti del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, con il quale è diventato un obbligo restare a casa per contenere il contagio da coronavirus, è nelle file di persone in coda per entrare nei negozi di alimentari. È uno dei punti del provvedimento annunciato lunedì sera dal Presidente Conte. La spesa può essere fatta da una sola persona rispettando la distanza di sicurezza dagli altri avventori. preventori. Tocca ai titolari degli esercizi commerciali garantire la distanza di almeno un metro e per evitare assembramenti, vietati con il nuovo provvedimento del Governo, si contingentano gli ingressi dei clienti. Le misure restrittive, ora che tutta l'Italia è stata dichiarata zona protetta per fronteggiare l'emergenza coronavirus, hanno svuotato le strade delle città. C'è l'obbligo di restare a casa e non uscire dal proprio comune di residenza, se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Da questa mattina sono diventati stringenti anche i controlli degli agenti di polizia locale e delle forze dell'ordine, proprio per il rispetto dei nuovi provvedimenti. Fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi, fermi cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche, chiusi anche musei e siti archeologici. Bar e ristoranti possono aprire da dei 6 del mattino alle 18, con l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività. Scuole ed università restano chiuse sino al 3 aprile, così come sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali, ma i luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di un metro.